Il racconto della biodiversità nell'Appennino, dal velino alla maiella, passando per il Gran Sasso. Dal 20 al 24 luglio 2016, 5 giorni alla scoperta della natura, organizzati dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con i parchi nazionali e con altre associazioni ambientaliste. Ricercatori ecologici ed esperti cammineranno insieme alle persone comuni, con le quali condivideranno il sapere sulle peculiarità degli ecosistemi. Noi attraversiamo tre siti di ricerca ecologica a lungo termine, Velino, Gran Sasso e Maiella. È una stazione di ricerca che lavora nell'ambito di una rete internazionale, mondiale, e abbiamo la fortuna di avere tre stazioni di ricerca sotto i nostri piedi, dove passeremo con tutti i nostri partecipanti e lì vedremo quali sono le caratteristiche degli ecosistemi di alta quota, quindi ecosistemi senza alberi, dove per motivi climatici le specie sono tutte più piccole e sono veramente ricchi di endemismi, di specie rare, di specie protette. Il percorso è aperto a tutti, grandi e piccini. È aperto a tutti, assolutamente, in particolare abbiamo due eventi al quale può partecipare chiunque veramente da cinque anni a cent'anni, che si chiamano BioBlitz, si tratta di una ricerca intensiva sulla biodiversità, il primo ci sarà venerdì prossimo al Gran Sasso e il secondo il giorno dopo alla Maiella, sabato.